10 anni di crisi hanno prodotto una selezione naturale che ha fatto rimanere sul mercato le imprese capaci di puntare su qualità, nuova tecnologia e internazionalizzazione. Questa è la parola di Antonello Biriaco, presidente di Confindustria Catania, nel corso di un seminario tenutosi stamani nel centro Etneo, nato in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico. Incontro volto ad approfondire le misure di supporto agli investimenti messe in campo dal PON 2014-2020. Il programma operativo nazionale Imprese e Competitività, con una dotazione complessiva di oltre 2,4 miliardi di euro, punta al riposizionamento competitivo del sistema produttivo del Mezzogiorno. Tre gli strumenti presentati, il Fondo Crescita Sostenibile Agri-Food e Fabbrica Intelligente, il Bando per Macchinari Innovativi e Smart & Start Italia. Oggi è una giornata importante perché vengono presentati tre nuovi strumenti. Mise Confindustria Nazionale, Confindustria Catania, Invitalia, oggi al tavolo degli imprenditori, ricerca e innovazione, strumenti principali per crescere e fare sistema. Oggi vengono presentati dei bandi che sono importanti per la ricerca e l'innovazione e insieme si potrà anche nell'arco della mattinata avere degli incontri B2B proprio fra imprenditori, Mise e Invitalia, proprio per mettere sul campo quelli che sono gli strumenti per la crescita delle nostre aziende. A chi sono mirati gli incontri e quali sono le prossime prospettive? Gli incontri sono mirati a tutti gli imprenditori che investono sulla ricerca e sulle innovazioni, alle piccole e medie aziende, perché sappiamo benissimo che le aziende lo fanno in automatico, però bisogna effettivamente aprire alle piccole e piccolissime aziende questi nuovi strumenti che grazie a loro si riesce a crescere e si riesce a innovare. Un fondo di 167 milioni è stato stanziato per promuovere progetti di sviluppo nelle aree tecnologiche, fabbriche intelligenti e agri-food, i cui termini per la presentazione dei progetti si apriranno il 22 gennaio per importi compresi tra 800 mila e 5 milioni di euro. 340 milioni di euro andranno invece a sostenere gli investimenti delle PMI che si vorranno dotare di macchinari innovativi e dal prossimo 29 gennaio potranno partecipare al bando che incentiva investimenti compresi tra 800 mila e 5 milioni di euro. Una dosazione di 109 milioni di euro andrà invece a coloro che punteranno alla nascita di start-up innovative, bando che permetterà di finanziare progetti compresi tra 100 mila e 1,5 milioni di euro.